Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, questo è il primo video del mio gioco preferito ovvero Dark Soul Ho visto molte molte guide su come appunto farmare determinati oggetti Come catene vertebrali e in particolare gli oggetti delle Covenant Io adesso appunto guardando questi video ho detto minchia però qui ci metto 6 giorni E non è meno assicurato che appunto questi oggetti me li droppino Allora ho detto proviamo a cercare un metodo per farmare Allora sarà facilissimo, basterà avere questa pietra rossa che ci consentirà di mettere per terra il segno di invasione Poi dovrete avere un vostro amico con la vostra stessa Covenant In questo caso il creatore di tumuli perché io voglio farmare catene vertebrali Adesso lui mi evocherà, evocami E ci basterà ucciderlo appunto per ottenere in modo assicurato una catena vertebrale Adesso vedrete Ditemi se vi piacciono video di questo genere sulla lord di dark soul Anche sui modi per farmare determinati oggetti perché ne potrei portare anche di più Adesso aspettiamo di raggiungere il mondo e poi guardiamo Perfetto, vi evocherà sempre in questo punto Vi basterà procedere dritti Questo è dove invado io perché ormai lo so a memoria Prendere la seconda scala Dopodiché girare a sinistra E prendere la prima che avrete davanti Dopodiché dovete andare a destra e qui troverete il vostro amico che si dovrà far uccidere Ok, dopo averlo ucciso Otterrete in modo assicurato Un oggetto di covenant Io spero che il video vi sia stato d'aiuto Come sempre condividete per continuare a far crescere il canale Ci vediamo ad un prossimo video Bella ragazzi